Benvenuti a Unpass per il benessere e bentornati ai miei ospiti. Sono Giorgio Terziani, che è visit professor in discipline della benessere alla St. George School di Brescia e responsabile di un progetto di divulgazione medico-scientifica sull'importanza dell'ossigeno. E bentornato anche il dottor Massimo Spattini, che è medico-chirurgo e specializzato in scienza dell'alimentazione e medicina dello sport. Allora, il titolo di oggi parla chiaro. L'ossigeno è importante per la nostra salute, ma qual è di preciso il suo ruolo? Il ruolo dell'ossigeno penso che sia fondamentale per la nostra salute, perché noi possiamo rimanere giorni senza mangiare, qualche giorno senza bere, ma immaginate quanto possiamo rimanere senza ossigeno. Pochissimi minuti alcuni si esercitano a rimanere senza ossigeno, vanno in apnea, ma in realtà pochissimi possono rimanere senza respirare. Anzi, il respiro è vita, come l'ossigeno è vita. È fondamentale perché proprio l'apporto di ossigeno, ma anche l'idrogeno, è fondamentale per produrre energia dentro le nostre cellule. Siccome noi per pensare, camminare, per fare qualsiasi cosa nella nostra vita, abbiamo bisogno di produrre energia, questa molecola di scambio di qualsiasi reazione metabolica del nostro organismo. E proprio per questo abbiamo scritto e pubblicato un libro insieme ad altri 20 medici sulla modulazione fisiologica d'ossigeno on demand, che è l'ultima sfida della nutraceutica, che proprio parla di tutte le ricerche scientifiche e il ruolo dell'ossigeno e anche dell'azione antiossidante che possono fare alcuni nutraceutici e alcune molecole. Perché questo? Perché noi siamo, come diciamo sempre, quello che mangiamo, quello che respiriamo. Creare cultura, informazione su un sano stile di vita è fondamentale. Quindi a partire dalla nutrizione, dall'alimentazione, dalle carenze nutrizionali, dall'impatto ambientale. Pensiamo al ruolo, come dicevo, dei campi elettromagnetici, delle sostanze chimiche. Ecco, oggi le patologie sono sempre più in aumento. E questo ne abbiamo parlato nella puntata precedente di epigenetica, di tutti questi fattori che interferiscono sulla salute. Ecco, questo naturalmente è il ruolo del dottor Massimo Spattini nell'affrontare un tema del genere, di come, perché le patologie sono in aumento, patologie neurogenerative, Parkinson, Alzheimer, i tumori, soprattutto nei bambini anche. Certo, quello che appunto emerge dalla letteratura è proprio un notevole aumento delle malattie croniche di tipo degenerativo, nelle quali possiamo comprendere quelle che hai detto, quelle di tipo neurodegenerativo, come Parkinson, Alzheimer, la sclerosi multipla e altre, ma anche ovviamente il diabete tipo 2, che si prospetta una pandemia nei prossimi anni proprio di diabete, e le malattie stesse cardiovascolari, da ictus a infarto, i tumori sono anch'essi delle malattie di tipo degenerativo, le malattie autoimmuni, l'osteoporosi, malattie osteoarticolari. Quindi sono tutte malattie che non a caso aumentano progressivamente con l'invecchiamento, proprio perché sono legate a una progressiva degenerazione delle capacità funzionali dell'organismo. Fino a un certo punto abbiamo pensato di poter aver debellato le malattie infettive, con gli antibiotici, con i vaccini, eccetera. Oggi possiamo essere un po' meno sicuri di ciò, perché la recente pandemia ci ha dimostrato che non possiamo essere tranquilli nemmeno per quanto riguarda le malattie di tipo infettivo, che invece avevamo recentemente un po' considerato di meno. Ma è ovvio che però, nella misura in cui le malattie croniche di tipo generativo sono legate appunto all'invecchiamento, ma anche le malattie infettive sono anch'esse legate all'invecchiamento, perché abbiamo visto come per esempio il Covid ha rappresentato un problema soprattutto per le persone sopra una certa età. Difatti la mortalità ha riguardato soprattutto gli ottoagenari, cioè le persone particolarmente anziane, mentre invece nelle persone sotto una certa età c'è stata una percentuale di mortalità praticamente irrisoria. Quindi il progressivo decadimento delle funzioni fisiologiche si accompagna a un progressivo aumento di tutte queste malattie che abbiamo citato prima e anche a una peggior risposta alle malattie infettive. E a che cosa è legato questo progressivo decadimento che porta alle malattie di tipo cronico-degenerativo? Fondamentalmente al decadimento di varie funzioni. Una funzione ovviamente è quella che decade con l'invecchiamento, quella del sistema immunitario, è abbastanza evidente e di fatti viene definita immunaging, cioè l'invecchiamento del sistema immunitario che predispone alle malattie. Ma l'invecchiamento del sistema immunitario non è un concetto astratto, è un concetto che trova la sua ragione specifica, per esempio, in un aumento del danno esercitato dai radicali liberi a livello delle cellule, soprattutto dei mitocondri, delle cellule del nostro sistema immunitario. Cioè nel senso che se il nostro sistema immunitario, le cellule del nostro sistema immunitario, diventano meno performante perché i mitocondri vengono danneggiati da un'eccessiva produzione di radicali liberi, allora non riescono a produrre abbastanza ATP, che è la molecola energetica per eccellenza che la cellula utilizza per esercitare le proprie funzioni. Quindi la cellula del sistema immunitario, se non produce abbastanza ATP, non riesce a combattere i virus, i patogeni. E di conseguenza questo meccanismo si verifica proprio perché c'è un'alterazione dell'equilibrio redox e appunto c'è una maggior produzione di radicali liberi che non riesce a essere compensata dalla produzione endogena del nostro organismo di molecole antiossidanti. Normalmente gli antiossidanti prodotti in maniera endogena più potenti e che il nostro organismo utilizza soprattutto sono il glutatione e la superossido dismutasi. Ebbene, le cellule invecchiando perdono un po' questa capacità. Allora le dobbiamo aiutare come, per esempio, esistono proprio degli integratori che sono in grado di aumentare questa capacità delle cellule del sistema immunitario di produrre energia, cioè ATP. Per esempio ci sono degli studi che hanno visto che l'utilizzo del sulforafano e dell'acetilcisteina sono in grado di aumentare la produzione endogena di glutatione e portare indietro nel tempo la capacità di queste cellule di reagire all'attacco di sostanze, di microbi, patogeni, quindi virus. Quindi combattere lo stress ossidativo diventa fondamentale. Un altro aspetto che contribuisce all'invecchiamento e alla progressione delle malattie di tipo degenerativo è l'infiammazione e di fatti anche questo viene definito inflammaging. Cioè è un'infiammazione, non quell'infiammazione che noi conosciamo in maniera acuta quando magari ci tagliamo con un qualcosa di contundente che crea un danno alla pelle, si crea l'infiammazione con rossore, tumefazione, eccetera. Infiammazione che favorisce poi l'arrivo appunto di macrofagi e di cellule del sistema immunitario che tendono a contrastare eventuali patogeni che entrano e a ripristinare e favorire poi la guarigione e la rigenerazione della pelle. Ma l'infiammazione invece quella che causa questo problema legato all'invecchiamento è quella cronica silente e quella di basso grado che noi magari non ce ne accorgiamo perché non ci dà febbre, non ci dà dolore, non ci dà particolari problemi ma agisce continuamente destabilizzando il nostro per esempio sistema immunitario ma anche le nostre capacità di rigenerazione. E di conseguenza, prego, prego, finisca pure, volevo chiedere... Volevo dire uno, e l'altro aspetto appunto che contribuisce ovviamente all'aumento perché poi fa parte tutto dello stesso sistema è la carenza di ossigeno. Ecco infatti, qua volevo sapere. E oggi parliamo di ossigeno, ci arrivavo ovviamente. Quindi per contrastare questa informazione è il fondamentale ruolo di ossigeno. Esatto, perché la carenza di ossigeno, tra l'altro, la carenza di ossigeno purtroppo è spesso anche più presente nelle persone di una certa età. Perché questo? Perché per esempio le persone di una certa età tendono all'anemia. Questo perché possono avere dei problemi di alimentazione di un certo tipo, con carenza di ferro, per carenza tipo di acidi di succo gastrico, in grado di digerire bene la carne, quindi tendono a mangiare meno carne, quindi sono più predisposti all'anemia, ma tendono magari anche a avere dei processi di aterosclerosi. Quindi cosa vuol dire? Che sono le pareti delle arterie che sono meno, diciamo così, elastiche e fanno anche passare meno l'ossigeno e quindi favoriscono già un fenomeno di ipossia. Questa ipossia, anche essa, favorisce un fenomeno infiammatorio. Perché? Perché se è vero che l'ossigeno in eccesso, sappiamo come radicali liberi, spesso si dice che sono i radicali liberi dell'ossigeno che possono creare dei problemi. In effetti anche l'ossigeno in eccesso può creare dei problemi. Ma quando è in difetto, se noi abbiamo un scarso ossigeno, noi quel famoso ATP di cui abbiamo bisogno come molecola energetica lo produciamo soprattutto appunto nel mitocondrio e lo produciamo con la glicolisi aerobica. Cosa vuol dire aerobica? Vuol dire in presenza di ossigeno. Noi in presenza di ossigeno riusciamo da una molecola di glucosio a produrre 36 molecole di ATP. Viceversa, se noi non abbiamo ossigeno, non riusciamo a produrre tutto questo ATP, ne produciamo solo un paio, quindi minore energia, ma soprattutto questa molecola di glucosio non viene trasformata fino ad adilidra carbonica e acqua che poi vengono eliminate dal nostro corpo, ma produce acido lattico. L'acido lattico è un acido e provoca quindi una microacidosi sistemica che favorisce l'infiammazione. favorisce la formazione di idroperossidi che sono radicali liberi, che danneggiano i mitocondri e si innesca così un circolo vizioso che porta alla disfunzione mitocondriale che fondamentalmente è alla base di tutte queste malattie croniche di tipo degenerativo. Su tutti questi concetti che ci ha spiegato in modo, è un argomento molto ampio, per cui è difficile sintetizzarlo, però ci sono tantissimi studi scientifici a supporto dell'importanza dell'ossigeno. Sì, come diceva il dottor Spattini, noi abbiamo varie forme di ipossia, per esempio ipossia anemica, stagnante, istotossica, che creano un danno ai nostri tessuti a livello proprio di... per esempio magari possono venire stanchezza cronica, la fibromialgia, possono causare malessere come difficoltà di digestione, eccetera. Scusa se ti interrompo. Hai dimenticato l'ipossia stagnante. L'ipossia stagnante. Quella legata a un problema di circolazione. Certo, che è dovuta alla sedentarietà. Perché io ne parlo nel libro, soprattutto di questa ipossia. Perché la carenza di ossigeno legata, per esempio, a un problema circolatorio, a parte le patologie croniche degenerative, cosa che può interessare molto alle donne, è foriera, per esempio, di problematiche circolatoriche che portano alla cellulite, all'accumulo di grasso localizzato, quindi favorire il discorso circolatorio, l'apporto di ossigeno anche in periferia, per esempio, è anche utile per, diciamo, risolvere questi inestetismi che spesso riguardano la maggior parte delle donne. Sì, e infatti anche l'ischemia riperfusione, per esempio, i problemi legati al recupero negli sportivi, ma soprattutto nelle patologie importanti come può essere un'ischemia cerebrale o emorragie cerebrali, ma senza andare nelle patologie. Direi che modulare proprio il consumo di ossigeno e dare ossigeno a un demand come il modulatore fisiologico, come può essere il self-food, che ha dimostrato quei lavori scientifici che ho voluto proprio citare oggi e li ho portati perché sono fondamentali. Allora, partono da un concetto. Warburg ha dimostrato e ha preso il premio Nobel nel 1931 dimostrando che la carenza di ossigeno provocare metastasi, comunque infiammazione. Il Ghiiton, nel suo libro di fisiologia medica, parla proprio che la carenza di ossigeno è legato a tutte le patologie croniche e degenerative. Ma nel 2019 tre scienziati importanti, tra cui uno dei massimi che è semenza, ha proprio dimostrato il ruolo dell'ossigeno, proprio il fatto che le nostre cellule rispondono alle varie forme di ipossia. E quindi la carenza di ossigeno provoca infiammazione, provoca una modificazione dell'HIFA-alpha-1 che quindi è una sentirela importante nel processo dell'infiammazione. E in questo caso noi abbiamo dimostrato con numerosi lavori scientifici che donando ossigeno a livello mitocondriale aumentiamo la produzione di ATP, facciamo un'azione antiossidante nel contrastare l'eccesso di radicali liberi. Addirittura aumentiamo la produzione della SOD, la supraossima dismutasi, di cui parlava il dottor Massimo Spattini, che è veramente importante come azione antiossidante, quindi preventiva, soprattutto nella protezione del danno endoteliale. e nello stesso tempo abbiamo fatto degli studi poi sulle pazienti fibromialgiche con l'Università di Siena. Abbiamo dimostrato che con solo 15 gocce tre volte al giorno di questo nutraceutico abbiamo riportato una qualità della vita ottimale in questi pazienti. Abbiamo dimostrato all'Università di Milano con il San Raffaele di Milano su 230 pazienti intossicati da metalli pesanti che grazie al supporto di terapia calante per eliminare e rimuovere i metalli pesanti e questo nutraceutico abbiamo migliorato tutti i parametri dello stress ossidativo abbiamo promosso la produzione di glutatione e soprattutto l'aumento del glutatione la diminuzione dell'omocisteina la diminuzione dei radicali liberi l'aumento della capacità antiossidante. Penso che questi siano studi molto significativi soprattutto perché quando parliamo di nutraceutici bisogna anche stare molto attenti nel fatto che un nutraceutico deve avere delle ricerche scientifiche che possono poi giustificare un razionale di impiego naturalmente consigliato dal medico e naturalmente associato sempre a uno stile di vita sano. Pensate quanto sia importante donare ossigeno alle nostre cellule. Noi siamo 100.000 miliardi di cellule e avere la possibilità di mantenere la produzione di energia ottimale a livello cellulare un giusto apporto di ossigeno penso che sia un valore aggiunto alla qualità della nostra vita. Ecco, volevo fare una domanda al dottor Massimo Spattini nel caso di come controllare per esempio l'omocisteina e il ruolo dell'omocisteina per la nostra salute. Ma l'omocisteina è un marker infiammatorio e andrebbe valutato sempre purtroppo la maggior parte dei medici non fanno questo tipo di valutazione. Sarebbe importante farlo anche perché in una percentuale abbastanza elevata superiore al 10% c'è un problema legato a un polimorfismo genetico a carico dell'MTHFR cioè il metallidofolato e vedete quindi che anche per questo motivo è importante anche fare i test genetici perché fondamentalmente i livelli di omocisteina alti sono legati a una carenza di agenti donatori di metili che è una carenza di vitamina B6 vitamina B12 metaina solfodenosilmetionina bene oppure molto più spesso proprio a questo deficit genetico che praticamente fa sì che per poter invece metilare l'omocisteina trasformandola quindi in metionina e quindi in questa maniera evitando che l'omocisteina possa esercitare i suoi effetti tossici che favoriscono per primo le malattie cardiovascolari ma in realtà anche le malattie tumorali allora se noi sappiamo di avere un deficit genetico a carico un polimorfismo a carico dell'MTHFR sappiamo che dovremo a vita sempre assumere degli integratori appunto in grado di trasformare questo omocisteina in metionina cioè dei neotori di sostanze metiliche quindi assolutamente la solfodenosilmetionina l'acido folico meglio il metilidrossifolico il metilcobalamina la vitamina B12 ovviamente meglio sublinguale per la massima biodisponibilità poi ovvio che si scelgono in questo caso magari anche quali di queste sostanze utilizzare l'uno o l'altra però in realtà capite che se per esempio una persona in concomitanza ha un problema di annemia potrà essere più utile assumere gli acido folico e la vitamina B12 che aiutano in questo se magari una persona ha dei problemi magari di carattere psicologico tende un po' alla depressione beh la solfodenosilmetionina siccome è una medicina importantissima anche per la produzione di neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina può aiutare tantissimo tanto è vero che è usata proprio in pazienti affetti di depressione che non rispondono ai farmaci così come la solfodenosilmetionina e il cosiddetto come tu hai detto same veniva utilizzato proprio come epato protettore e quindi viene utilizzato anche nel caso di stiatosi epatica non alcolica quindi se per caso uno ha un po' anche questo problema è sovrappeso ha un'obesità un po' viscerale che significa quel grasso infiammatorio che nell'addome che non è solo un problema estetico ma è proprio un problema metabolico perché genera un sacco di citochine infiammatorie perché è un misto di tessuto diposo e macrofagi che producono queste citochine infiammatorie ebbene allora in questo caso la solfodenosilmetionina aiuterà anche nel contrastare la statosi epatica che in questi pazienti è quasi sempre presente quindi c'è proprio un mondo al di fuori dell'approccio tradizionale della medicina convenzionale Loretta guarda quello che abbiamo poi dimostrato che è possibile proteggere il danno endoteliale quando parliamo di endotelio abbiamo fatto uno studio sulle cellule endoteliali del cordone umbilicale umano dove abbiamo dimostrato proprio sulle cellule UVEC che mettendole in ipossia e qui è proprio interessante vedere questo è l'endotelio e poi se andiamo avanti facciamo proprio vedere questa cellula in uno stato ipossico e poi con l'aggiunta di questo nutraceutico Formula Everett Storie che è donatore di ossigeno a livello cellulare la capacità proprio di proteggere l'endotelio come? Con una riattivazione mitocondriale perché se noi doniamo ossigeno riattiviamo i mitocondri produciamo maggiore energia diamo modo di modulare anche l'eccesso di radicali libri e quindi teniamo sotto controllo questa infiammazione sicuramente possiamo migliorare notevamente la qualità della vita e fare prevenzione perché quando parliamo di una corretta ossigenazione delle nostre cellule penso che noi possiamo poi alla fine parlare anche di salute a 360 gradi no? Assolutamente tra l'altro disfunzione endoteliale che trae origine proprio nella disfunzione mitocondriale quindi nella maniera in cui noi apportiamo ossigeno che favorisce la funzionalità delle cellule dell'endotelio allora a questo punto noi contrastiamo questa disfunzione endoteliale che poi è alla base dell'aterosclerosi cioè quindi delle malattie di tipo cardiovascolare fondamentalmente una domanda quando si parla di integrazione alimentare perché non c'è abbastanza cultura sull'integrazione alimentare perché a volte proprio la mancata di conoscenza del ruolo dei nutraceutici come un prodotto così importante che può essere quello che permette di ossigenare oppure dare le giuste vitamine oppure assumere vitamine quotidianamente non viene consigliato oppure a volte si sente anche dire che non sono non sono corretti ma allora sì certo guarda tu questa domanda la fai a me che sono 40 anni che parlo di integratori alimentari anche in certi convegni medici spesso ho dovuto discutere con relatori che appunto sostenevano l'assoluta inutilità a prescindere dalle ragioni che abbiamo già espresso del fatto che ormai c'è proprio una vera e propria carenza di micronutrienti dovuta a un'alimentazione che per forza non è idonea un eccesso di cibi raffinati industriali depauperati appunto dei micronutrienti oltre che un maggior fabbisogno perché l'aumento di insulti di stressogeni che necessitano più molecole antiossidanti micronutrienti per riparare questi danni cioè in realtà credo che ci siano due motivi fondamentalmente perché c'è questa resistenza nei confronti dell'approccio terapeutico anche con l'integrazione alimentare uno che il medico si deve formare deve studiare perché abbiamo visto qualche accenno di come comunque è complessa la cosa che non si può ridurre nel dire prendi quell'integratore perché fa bene o quell'altro che mi ha detto mia suocera che fa benissimo il mio amico l'ha preso e si è trovato bene no l'integrazione perché sia efficace perché sia salutare deve essere personalizzata quindi per personalizzare l'integrazione bisogna fare degli esami dei test abbiamo parlato del test drive come uno dei test più importanti ipo epigenetico proprio per poter fare un'integrazione personalizzata ma bisogna poi conoscere come funzionano gli integratori i meccanismi quindi bisogna studiare bisogna studiare e la laurea medicina non dà queste informazioni pensate che chi informa i medici chi informa i medici sono gli informatori farmaceutici che sono i rappresentanti delle case farmaceutiche quindi pare ovvio che loro non hanno interessi che le persone si curino con l'alimentazione e l'integrazione loro insegnano al medico come curare coi farmaci punto quindi non c'è nessun interesse al momento quando forse anche il discorso l'integrazione alimentare diventerà una branca dell'industria farmaceutica può darsi che gli integratori verranno consigliati siamo alle conclusioni sì allora se prevenire è meglio che curare un approccio consapevole nello stile di vita nel migliorare l'ambiente dove si vive dorme e lavora il nostro pensiero il controllo dello stress ma soprattutto come dico sempre non fate mancare mai l'amore nella vita perché è una molecola fondamentale è una molecola fondamentale dovremmo parlare proprio che di prendersi proprio a cuore dalla nostra salute in maniera consapevole e non smettere mai di sognare benissimo bellissime parole per questo finale voleva aggiungersi voglio chiudere anch'io con una frase perché la salute è nelle nostre mani grazie grazie Giorgio Torziani grazie a voi grazie al dottor Massimo Spattini e grazie anche a voi telespettatori continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti